Eccoci qua, vi accompagno nel mio regno che è la mia cucina, che è questa, che ormai ha 12 anni. Mi piaceva moltissimo, l'ho amata tantissimo, però la cucina di me è un sogno un pochino diversa. Mi piacerebbe una cucina bianca, magari un legno chiaro, decapato, assolutamente senza queste che detesto. Odio le maniglie, quindi molto lineare e molto funzionale. Mi piacerebbe tantissimo avere più spazio nel forno, quindi un forno più ampio, più capiente, dato che io ho un rapporto molto stretto con questo letto domestico. Magari abbinato con un forno un po' più piccolo per economizzare. Altra cosa importante che mi piacerebbe tantissimo è il frigorifero. Questo è un frigorifero incassato. In realtà, come quasi tutti, i frigoriferi incassati non sono molto capienti. Mi piacerebbe fosse l'elemento di stacco, magari bombato, un bell'acciaio, comunque anche colorato, comunque bello capiente. E un altro desiderio, il tavolo. Sognando una cucina bianca, chiara, mi piacerebbe che fosse in stile, magari in stile retro e comunque di un marrone un po' scuro. Ecco, vi ho raccontato il mio ideale di cucina dei sogni e adesso speriamo.